giro la vingardia campione italiano slalom classe p2 come suona è stata una stagione abbastanza difficile tanti sacrifici tutto merito di mio padre alla fine ce l'abbiamo fatta però come si chiama ingardia senior michele diamo diamo un volto e un nome a questo a questo grande uomo che ti assistito silenziosamente lui assolutamente no non potrebbe fare nemmeno l'italiano e nemmeno potrebbe una macchina di questa che la cura lui è andata bene diciamo ha illuminato la stagione però alla fine preso anche un grande spavento perché il tuo motore ha dato un sussulto e ha detto ho bisogno di essere rifatto tu l'hai rifatto in fretta e furia sei andata a chinesia hai verificato che fosse tutto a posto e ora sei qui a festeggiare il tuo primo titolo sì sì il motore dopo rifatto vala grande è finita la stagione non si doveva rompere adesso ma comunque va bene la gara più bella cioè il momento più bello è il momento più brutto della stagione fatto salvo questo che evidentemente è il momento della della conquista del titolo il la prima vittoria insomma raccontaci tu la gara la gara più bella ci tenevo anzi a sottolinearla è stata campo basso come organizzazione per me la migliore di quelle che mi sono fatto giustamente è un momento in cui ti è preso un po diciamo ecco insomma credevi non farcelo comunque vedevi un po tutto nero sì comunque non siamo partiti che già sapendo che ero il top ma ci siamo trattati alcune gare molto distanti alla fine ce l'abbiamo fatta non era al cento per cento che ero convinto di vincere infatti ancora ora non non ci pensavi di essere competitivo si ci pensavo che ero competitivo però essendo che non potevo fare tutte le gare speravo speravo che vincevo lo stesso senti si è diventato anche mcgyver a un certo punto della stagione quando si è messo a inventare anche cambi al volante meccanici self made no perché l'elettronica costa ma con la meccanica abbiamo una certa confidenza questo cambio che non perde un colpo e soprattutto non perde un rapporto sia in salita che in disceso sì il cambio funzionale grande questa è la cosa ha dato una consistente mano nelle postazioni sì secondo me sì c'è stato un miglioramento col cambio sì sì però ancora ancora sì si può migliorare ancora sì tenere le mani sullo stesso è comunque sempre un must importante sì certo dovevo farlo prima se se sapevo come farlo ci siamo arrivati un po tardi campionato siciliano come siamo messi campionato siciliano mi sa che quest'anno è andato per l'anno prossimo ovviamente sarà il budget a decidere dove come andare ci sarebbe la voglia di rifare il tricolore e di migliorare se stessi spero spero di rifarlo ma mi sa che è difficile mi sa che è difficile vedremo il campionato il calendario come va se se diciamo è a favore e allora ci riproviamo la tua scuderia tra panicorse ha già diramato un comunicato super orgogliosi di te un pensiero magari per per il tuo collettivo che insomma puntava tanto su di te per andare a guadagnarsi quella ribalta nazionale che diciamo il loco si guadagnano domenicalmente tutti i tuoi colleghi della tra panicorse ma a livello tricolore gli hai fatto guadagnare tu appunto con la tua vittoria sì è una grande scuderia anzi una grande famiglia pure soprattutto hanno fiducia in me ne sono fiero di loro è una grande scuderia appuntamento al 2018 con jimmy cardia speriamo per un altro impegno nel tricolore un ragazzo del profondo sud che vorrebbe provare a rivincere intanto in questo 2017 ha fatto vedere di saper vincere alla grande a dispetto delle poche risorse economiche e questa forse è la cosa più bella di tutto